Torna uno degli eventi più attesi da grandi e piccini, la tradizionale manifestazione Una Befana per la città, giunta alla sua 34esima edizione. L'evento organizzato dal quartiere di Porta del Foro, come consuetudine ormai da anni, si svolgerà venerdì 6 gennaio presso il Palace Portestra Mario d'Agata ed avrà inizio alle 15.30. Il momento tanto atteso per i bambini sarà verso le 18, quando la Befana farà il suo ingresso, i cui dettagli ancora restano top secret. La Befana arriverà come sempre a fine serata, sarà l'ultimo delle manifestazioni che proporremo, l'ultimo evento, sul come stiamo ancora decidendo e poi come sapete c'è sempre un certo riservo, per cui ci teniamo la sorpresa per domani. C'è anche una grande attesa, la Befana arriverà alle 18, tante le iniziative, dalle 15.30 e poi come sempre presenti le realtà sportive del territorio, chi sarà presente? Sì, noi facciamo sempre un grande richiamo, oltre alle realtà sportive, a comunque alle discipline come la danza che sono molto presenti nel nostro territorio, per cui abbiamo come sempre un riassunto di tutte le nostre realtà che hanno voluto partecipare e aderire, più che altro per avere la possibilità di mettersi in vetrina e magari di far capire a tutta la cittadinanza quello che fanno nelle loro realtà. Si aggiungono nuove discipline, oltre alla danza e alla ginnastica che ormai fanno parte di questa iniziativa da anni? Sì, abbiamo anche qualcosa di nuovo, vediamo domani come verrà fatto tutto il programma, ma sì, qualche novità ci sarà, ma come sai io sono sempre molto per il riservo, perché chi vuole vedere se sveliamo tutte le nostre carte prima, altrimenti domani non viene più nessuno, per cui qualcosa di nuovo ci sarà, ma è bene che la gente venga domani e lo veda con i suoi occhi. Grazie.